Buongiorno e bentornati su Voci dalla Bonetta. In questa puntata del nostro podcast ascolterete la terza ed ultima parte dell'intervista a Franco Piccinini sul tema del negazionismo del cambiamento climatico. L'intervista trae le domande da un articolo di Franco Piccinini dal titolo Il clima, gli struzzi e le bugie che potete trovare sul sito web della biblioteca Bonetta. Per chi si fosse perso la prima e la seconda parte sono disponibili nelle puntate precedenti del podcast. Buon ascolto. Arriviamo alla bugia numero 9. Le registrazioni delle temperature sono false. Quindi la negazione totale di tutto. Il negazionismo è in tre fasi. Io lo scrivo all'inizio come presentazione dell'articolo e spiegavo che negare tutto in maniera totale è la tecnica dello struzzo. Si dice che lo struzzo quando vede un pericolo, se si vede in pericolo, nasconde la testa sotto la sabbia perché così non vedendo il pericolo gli sembra che il pericolo non ci sia. Poi in realtà la situazione è tutta diversa. Lo struzzo ha degli ottimi motivi per mettere la testa nella sabbia. A, si mimetizza, B, protegge le uova che sono sepolte sotto la sabbia. Però nelle metafore comuni si dice fare come lo struzzo. Ecco, la gente fa come lo struzzo perché ha paura, perché non vuole che ci siano i cambiamenti, perché dovrà cambiare il suo modo di vivere ed è faticoso, dovrà adattarsi e non è detto che ci riesca. Quindi c'è per tutta una serie di motivi che la gente non vuole che si cambi. Gli viene in aiuto il riduzionista, cioè quello che dice sì, vabbè, c'è il pericolo, ma non è così grave. Il revisionista, cioè quello che dice andiamo a vedere se gli scienziati hanno davvero ragione o se si stanno sbagliando. E questo è quello che stanno dicendo con i climatologi e i meteorologi. E poi c'è il negazionismo vero e proprio, quello che dice, no, non è così, ti impone di crederci per fede e tu ci credi perché ti fa comodo o perché hai paura. Diceva una frase dell'antichità greco-latina che poi è riportata, se non sbaglio, nel versetto del Vangelo di Marco che diceva non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere, non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Quindi su queste persone è facile avere influenza perché già sono schierate dall'altra parte. Qualcuno si teme che il problema di queste persone è che hanno il diritto di voto. Ah, sicuramente. Il problema è che la scienza non è democratica. Cioè, la scienza è sempre sottoponibile a revisioni, a discussioni e a cambiamenti. molte delle teorie scientifiche del passato oggi sono completamente dimenticate. Però lo devi dimostrare che la scienza si sbaglia. Devi dimostrarlo con prove che devono essere ripetibili e ripetute più volte. Però una volta che una legge scientifica è affermata non può essere sottoposta al voto la maggioranza. È così o non è così? e lì ti scontri con le persone che non vogliono che questi cambiamenti avvengano. Nel caso delle registrazioni delle temperature allora io avevo letto in un articolo che contemporaneamente le rilevazioni della temperatura media della Terra erano coerenti con la NASA il servizio meteorologico del Regno Unito il servizio meteorologico del Giappone il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche i satelliti europei del Sistema Magellano le osservazioni fatte dalla Stazione Spaziale Internazionale se sono tutti messi insieme e sono coerenti bisognerebbe pensare a un grandissimo complotto perché? Per farsi del male da soli? sembra abbastanza difficile c'è poi il discorso che un complotto climatico si troverebbe contro le multinazionali del petrolio quelle della produzione dell'energia atomica quelle della produzione degli automobili legbifarma per quanto riguarda la produzione dei fertilizzanti chimici dei pesticidi e tutti questi permettono un complotto mondiale figuriamoci se potessero l'avrebbero già distrutto bugia numero 10 non siamo noi quindi non è colpa dell'uomo la colpa è della precessione degli equinozi ecco ci spieghi bene questo tema che viene citato da tante persone ma secondo me non sempre capendo bene di cosa si sta parlando allora innanzitutto questa è una delle affermazioni più scientifiche fra quelle proposte nel revisionismo ed è vero cioè la precessione degli equinozi non è mica una roba di adesso la sappiavano già i greci due secoli prima di Cristo il parco di Nicea aveva già calcolato che le stelle si spostavano grazie alla precessione degli equinozi lui osservava il cielo e diceva la costellazione A era qui adesso è là perché? perché l'asse terrestre si è mosso come mai? noi sappiamo che l'asse terrestre non è perpendicolare rispetto all'eclittica cioè non è diritto è leggermente inclinato su un lato questo fa sì che la Terra quando ruota si muova un po' come una trottola tracciando con l'asse terrestre una specie di cono rovesciato nel nostro emisfero e anche in quello questo asse punta verso il cielo e indica una certa costellazione la faccenda è ancora più complicata perché la Terra non è una sfera perfetta grosso modo ha la forma dicono di una pera o di una mela comunque è schiacciata ai poli da una parte sporgono di più i mari dall'altra due terre quindi cosa succede? che quando ruota succede quando tu lanci la trottola e poi dopo un po' questa che ha perso un po' di forza incomincia a oscillare in pratica questo cono compie dei movimenti frastagliati queste oscillazioni sono chiamate precessione ognuna di queste fa sì che non soltanto l'asse terrestre indichi una zona diversa del cielo ma abbia anche una inclinazione leggermente diversa dall'inclinazione dipende la quantità di raggi solari che prende la Terra e quindi se prende più sole il clima sarà più umido e più caldo se prende meno sole sarà più freddo queste oscillazioni avvengono da sempre sono abbastanza note agli astronomi e anche i meteorologi ma avvengono nell'arco di alcune centinaia di anni credo che sia stato anche calcolato il moto di precessione completo è di 26.000 anni circa questo andrebbe diviso in un certo numero di frazioni ma comunque siamo nell'arco dei 5-600 anni ogni tot anni avviene il cambiamento perché cambia l'inclinazione dell'asse terrestre benissimo ma non decenni ritorniamo al punto iniziale cioè questi cambiamenti sono semplicemente troppo rapidi per essere attribuibili alla precessione degli equinozi quindi diciamo che questo potrebbe spiegare ad esempio la piccola glaciazione del XV secolo ma è una spiegazione insufficiente è insufficiente per spiegare nel caso poi della piccola glaciazione non ci fu che poi si ebbe una recrudescenza tra il 700 e l'800 di questo ho parlato nel libro divulgativo che abbiamo fatto con Luca Ortino che era la percezione del clima lì si assume che oltre alla percezione delle equinoze ci fu un altro fenomeno molto importante che sono le eruzioni vulcaniche fra la metà dell'800 e l'inizio del 1900 ci fu una serie di enormi eruzioni vulcaniche che mandarono moltissime polvere nell'altra atmosfera e molti gas serra questo ridusse l'arrivo dei raggi solari sulla terra e causò il raffreddamento del clima ma bastavano due o tre gradi perché per esempio d'inverno il Tamigi venisse completamente ghiacciato e la gente pattinasse sul Tamigi come si vede anche tra l'altro in alcuni film della bella epoca anche Sherlock Holmes a un certo punto pattina sul Tamigi questo per dire che i fenomeni naturali esistono non sono così rapidi questo è il problema è una questione appunto di velocità dello sviluppo e la differenza la fanno le emissioni umane bugia 11 si tratta di un fatto naturale sono i cambiamenti solari che stanno riscaldando la terra è vero è un fatto cosa sono i cambiamenti solari allora è la quantità di emissioni di radiazioni che fa il sole perché il sole è un corpo vivo lancia ogni tanto dei flare dei brillamenti solari crede l'astronomia lancia delle fiamme sostanzialmente emette durante queste esplosioni un mucchio di radiazioni che normalmente però sono schermate dalla forza di gravità della terra dalle fasce di Van Allen nel campo magnetico terrestre e quindi non danneggiano la terra altri pianeti non sono così fortunati Marte che non ha una capacità di campo magnetico come la terra perché è più piccolo e non ha un'atmosfera così densa non è riuscito a fermare le eruzioni solari e se mai si è sviluppata della vita è stata bruciata dalle radiazioni non bisogna demonizzare i gas serra perché servono anche a proteggersi dal sole una cosa interessante è che se dovesse verificarsi un'esplosione solare veramente forte dobbiamo saperlo in anticipo perché dovremmo spegnere tutti i satelliti di comunicazione tutti i telefonini tutti i computer e riaccenderli dopo che l'esplosione è passata perché altrimenti verremmo isolati completamente e con l'attuale civiltà è quasi impensabile pensiamo agli aerei a queste cose qua ci sono diversi romanzi di fantascienza che hanno giocato su questo argomento ovviamente come Inferno di Fred Doyle che tra l'altro era un astronomo oppure L'estate dell'ozono di Frederick Paul però vabbè questo è il concetto è un fenomeno naturale ha poco a che vedere con quello che sta succedendo anche perché siamo in un periodo di sole quieto cioè con pochissimi brillamenti solari e quando succede questo non possiamo dare la colpa al sole se il riscaldamento aumenta E arriviamo alla bugia numero 12 la Cina che poi mi spiegherai perché c'è questa attenzione sulla Cina perché la colpa è tutta nella Cina comunque la Cina è l'unica responsabile della crisi climatica diciamo questa cosa della Cina perché per quanto sia una civiltà millenaria ma lo è anche l'Europa e quindi mi chiedo perché è una questione in parte politica in parte statistica dal punto di vista statistico i cinesi sono la popolazione più numerosa del mondo si avviano a raggiungere i 2 miliardi di persone credo che sia intorno a 1 miliardo 800 milioni in questo momento quindi è chiaro che un governo che deve amministrare tutto questo popò di gente intanto non può permettersi una democrazia parlamentare tradizionale perché non sarebbe in grado di gestirla e questa è una cosa di cui bisogna tenere conto poi hanno il problema che li devono sfamare riscaldare far circolare tutto questo richiede un grande consumo di energia e quindi dell'inquinamento tuttavia non sono gli unici responsabili del cambiamento climatico intanto perché loro producono tante emissioni ma non sono gli unici in proporzione gli Stati Uniti ne producono di più per ogni abitante poi perché comunque i cinesi non hanno tutte le materie prime che producono i gas serra al contrario ce li hanno i paesi per esempio del Golfo Persico e quindi anche loro quando estraggono il petrolio sono responsabili inoltre buona parte della produzione industriale non serve alla Cina è un surplus che viene avviato all'Occidente e all'Occidente fa comodo che si faccia in Cina uno dei motivi è perché l'acqua sta meno e non ci sono i controlli sul cambiamento climatico si può fare cambiare questa situazione abbiamo avuto una dimostrazione con le Olimpiadi in Cina Shanghai era talmente inguinata che non si riusciva dalle finestre a vedere la città loro si erano impegnati in 4 o 5 anni a diminuire l'inquinamento e ci sono riusciti adesso credo che la situazione sia tornata a quella di primo anche peggio ma volendo si può bene abbiamo esaurito questi 12 punti queste 12 bugie sul negazionismo del cambiamento climatico certo le domande sono ancora tante le curiosità ancora tante perché come dicevi anche tu giustamente ci sono ancora tante cose che nel dettaglio non conosciamo bene e in ogni caso ogni conoscenza che acquisiamo porta sempre perché siamo umani in noi centomila altre domande centomila altre richieste di approfondimento mettiamola così cerchiamo di guardarla da un punto di vista nella nostra vita di tutti i giorni adesso come dovremmo affrontare la nostra quotidianità con queste consapevolezze cosa possiamo magari fare nel nostro piccolo di concreto di non banale per essere intanto più coscienti di questo problema per essere anche per quanto è nelle nostre millesimali possibilità parte della soluzione e non parte ulteriore del problema e cosa possiamo anche fare per fare una sorta di operazione verità questa tra l'altro è anche il ruolo delle biblioteche noi siamo in una biblioteca questa è una proposta interessante io nel fare questo articolo ho messo in fondo un elenco di titoli sia di romanzi perché la divulgazione passa anche attraverso la narrativa soprattutto quella dell'immaginario scientifico cioè la fantascienza ma anche un certo numero di libri che mi sono letto sul cambiamento climatico e più in generale su una serie di cambiamenti dell'umanità in questo periodo come i limiti dello sviluppo del Club di Roma è un libro degli anni 70 anzi nel 1970 per la precisione è stato rifatto negli anni 2000 e le previsioni erano tutte azzeccate uno può cominciare anche a leggersele queste cose e farsi un po' un'idea magari partendo prima dalla narrativa che è più facile che è anche più divertente e poi arrivando eventualmente alla documentazione vera e propria io cito libri di divulgazione scientifica i libri tecnici li lascio ai tecnici certo è possibile fare qualcosa sì non bisogna secondo me essere dei pasdaran della rivoluzione perché la gente non l'accetta e se non l'accetta si ribella e va nella direzione opposta quindi non dobbiamo imporre una serie di norme dobbiamo cercare con la persuasione di trascinarle dalla parte giusta poi ognuno di noi nel suo piccolo può fare una serie di cose cominciare a risparmiare l'acqua per esempio non lasciare i rubinetti aperti sembra una banalità ma sono migliaia di litri d'acqua che si risparmiano si può per esempio cominciare a utilizzare automobili che hanno meno emissioni non è che la risolviamo però si è già visto che da quando ci sono le auto ibride le auto elettriche le emissioni sono diminuite l'industria dell'automobile non è morta anzi si è rilanciata quindi senza essere appunto dei rivoluzionari si può cercare di informarsi e di cambiare le cose per quel poco che ognuno di noi può fare la frase che tu hai citato è quella di David Brin che è un noto astronomo anche lui specializzato nel campo dello studio dei meteoriti e delle comitte e anche uno scrittore di fantascienza lui scrisse un romanzo che qualche anno fa oramai Terra Earth che parlava del cambiamento climatico negli anni Ottanta quindi vedeva già molto avanti e lui diceva signore a questo punto o fai parte del problema o fai parte della cura ognuno di noi sa che cosa ha davanti può decidere di stare da una parte o dall'altra ma deve sapere quali saranno le conseguenze poi ripeto non c'è bisogno di essere degli estremisti ci fanno piccole cose ma se ognuno comincia a fare piccole cose e prende coscienza che queste cose migliorano automaticamente saranno anche altri a farsi coinvolgere e a provarci anche loro io faccio sempre l'esempio del buco nell'ozono quando gli australiani si resero conto che il buco nell'ozono stava uccidendo la popolazione dell'Australia per i cancri della pelle incominciarono a pensare cosa dovevano fare innanzitutto programmi di screening di massa perché loro erano quasi tutti biondi perché erano di origine mitteleuropea o anglosassone c'era qualche italiano un po' bruno ma la maggior parte erano biondi quindi il fatto che fossero aumentati a dismisura i raggi ultravioletti perché c'era buco nell'ozono li faceva malardi il cancro della pelle allora cominciarono visto che gli australiani sono molto più ricchi di noi a fare programmi di massa di cura dei tumori poi però si sono domandati ma perché buttiamo via i soldi nelle cure quando possiamo prevenire pian piano ci si è resi conto che il problema del buco nell'ozono era causato dalle emissioni dei clorofluoro carburi una sostanza che veniva usata per la refrigerazione quindi frigoriferi container celle frigorifere il problema è che venivano prodotte in India e l'India non aveva nessuna intenzione di rinunciare alla gallina dalle uova d'oro e poi venivano vendute all'Occidente soprattutto agli Stati Uniti e anche loro non avevano nessuna intenzione di consentire che questo venisse fermato ci è voluto molto tempo poi alla fine ci si è resi conto che il problema si stava estendendo e a quel punto hanno smesso di produrre i CFC pian piano il buco nell'ozono si sta richiudendo non abbastanza velocemente però l'anno scorso è stato l'anno in cui il buco nell'ozono dell'emisfero australe era ai minimi storici e gli australiani hanno visto diminuire i tumori della pelle quindi ci hanno guadagnato tutti quanti e i frigoriferi li vendiamo ancora quindi non era così difficile era questione di mettersi d'accordo e trovare un compromesso io penso che andremo avanti va bene con questa con questa chiusura diciamo anche ottimistica ok noi ringraziamo Franco Piccinini per grazie a te per aver invitato figurati e e ti invitiamo ancora alle prossime puntate di Voci della Bonetta volentieri quando volete avete ascoltato la terza parte dell'intervista a Franco Piccinini sul tema del negazionismo del cambiamento climatico Voci dalla Bonetta è un podcast ideato e prodotto dalla biblioteca civica Carlo Bonetta del comune di Pavia con l'obiettivo di allargare le nostre attività di promozione culturale per i nostri utenti parlando di tematiche culturali libri e persone trovate le puntate precedenti e tutte le informazioni sul sito web della biblioteca Bonetta biblioteche.comune.pv.it e sui nostri canali social per contattarci potete scrivere a bonetta chiocciolacomune.pv.it grazie per l'ascolto e alla prossima puntata